Il treno regionale 2860, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Verona Porta Nuova, delle ore 0 e 11, e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 2809, di Trenitalia, proveniente da Brescia, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 06 e 50, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 2859, di Trenitalia, proveniente da Verona Porta Nuova, è diretto a Venezia Santa Lucia. Venezia Santa Lucia, delle ore 06 e 50, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma San Martino Buonalbergo, Caldiero, San Bonnifacio, Lonigo, Montebello, Altavilla Tavernelle, Vicenza, Lerino, Grisignano di Zocco, Mestrino, Padova, Ponte di Brenta, Vigonza Pianiga, Dolo, Mira Mirano, Venezia Mestre, Venezia Porto Marghera. Il treno regionale 2707, di Trenitalia, proveniente da Brescia, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 07 e 26, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma San Bonnifacio, Vicenza, Padova, Venezia Mestre. Il treno regionale 2718, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Brescia, delle ore 17 e 27, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Verona Porta Nuova, Castelnuovo, Peschiera del Garda, Desenzano, Lonato, Ponte San Marco Calcinato. Il treno regionale 2729, di Trenitalia, proveniente da Verona Porta Nuova, è diretto a Venezia Santa Lucia, delle ore 22 e 26, e in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a San Bonnifacio, Vicenza, Padova, Venezia Mestre. Il treno regionale 2856, di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Verona Porta Nuova, delle ore 23 e 11, e in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Att spectatoria 2756, di Trenitalia, conveniente da Venezia Santa Lucia, di Marta Nuova, delle ore 24 e 12, e in arrivo al binario 4. Grazie a tutti.